Ho deciso di fare questo video in seguito alla lettura di un volumetto pubblicato di recente da Armando Editore e che si intitola Forme dello spazio e forme della memoria. Il volumetto contiene due saggi di Erwin Walter Strauss, dal titolo rispettivamente Il movimento vissuto e sulle tracce mnestiche e mi concentrerò soprattutto su alcuni punti, alcune questioni sollevate dal secondo saggio pubblicato negli Stati Uniti su una rivista scientifica nel 1960. Erwin Strauss è uno psichiatra che adotta un approccio fenomenologico alla sua disciplina. Ma che cosa significa questo? Cerchiamo di comprenderlo attraverso la critica che gli fa della teoria delle tracce mnestiche, teoria che parte dal presupposto che le sensazioni che noi abbiamo, le impressioni attuali che noi abbiamo, lasciano nel nostro cervello una sorta di impronta delle tracce appunto, che avrebbero il potere di riattivarsi e quindi di far sì che emerga il ricordo dell'evento passato, di quello stesso evento, cioè che ha prodotto la traccia mnestica. Dunque la memoria è spiegata come una sorta di registrazione che avrebbe poi la capacità di riprodurre l'evento che l'ha causata, sia pure rievocandolo in una forma sbiadita, per così dire. Ora Strauss vede in questa teoria dei paradossi, delle contraddizioni e sostanzialmente la giudica non adeguata a spiegare un fenomeno così complesso come appunto quello della memoria. Egli la paragona in sostanza a una favola, ai miti che cercavano ingenuamente di spiegare i fenomeni dell'esperienza umana. Ma vediamo in che cosa consistono le principali contraddizioni. Intanto il presupposto che sta alla base di questa teoria affonda le sue radici addirittura nel pensiero di Aristotele. Aristotele fu il primo a spiegare il fenomeno della memoria con l'esempio del sigillo e dell'impronta che il sigillo lascia su una materia plastica. Questa idea, che appunto la memoria conservi le impressioni attuali e sia poi in grado di riprodurle in forma di ricordo attraverso una specie di rievocazione sbiadita dell'originale, percorre tutta la storia del pensiero occidentale e in particolare viene ripresa da Hobbes. Hobbes considera la memoria come sensazione decaduta, cioè immaginiamo che noi abbiamo una sensazione, questa sensazione si imprime in qualche modo nel nostro cervello e poi continua a persistere esattamente come un corpo fisico continua a persistere nel suo stato di moto se non viene ostacolato da un'altra forza. La sensazione decaduta che costituisce la memoria viene concepita come una specie di appunto sensazione attenuata che può comunque riattivarsi da sé, che può comunque generare un ricordo o può, come dire, sbiadire fino a non essere più percepibile. Quando dimentichiamo le cose in realtà vi è qualche altra cosa che ha ostacolato, che ha impedito a questa sensazione che permane come traccia nel nostro cervello di diventare cosciente, esattamente come nel caso in cui una forza, un ostacolo si frapponga al movimento di un corpo e ne odevi la traiettoria oppure blocchi questo movimento. Il torto di questa concezione è che essa è riduttiva, cioè che essa riduce il fenomeno della memoria a un evento fisico, a una cosa, appunto una traccia, una sensazione decaduta che si trova fisicamente nel nostro cervello e che sarebbe in grado di riattivarsi non si sa per quale sorta di miracolo. Se infatti noi possiamo concepire l'impressione attuale, cioè il fatto che io vedo davanti a me un determinato oggetto come la risposta a uno stimolo quindi come se appunto questa impressione fosse causata da uno stimolo che proviene dall'esterno non si riesce a capire in che modo la traccia lasciata da questa impressione attuale possa riattivarsi da sé cioè possa suscitare un ricordo anche senza la presenza attuale di uno stimolo. Sostanzialmente questa è la prima critica che Strauss muove alla teoria delle tracce amnestiche come è possibile che qualche cosa un'impronta, una traccia lasciata da un evento passato non più presente dunque nella nostra materia neuronale possa riattivarsi cioè possa suscitare di nuovo l'immagine per così dire di quell'evento passato. pensare così per Strauss equivale a pensare miticamente a pensare in maniera ingenua senza in effetti riuscire a dar conto dei fenomeni. Un'altra obiezione che Strauss muove alla teoria delle tracce amnestiche parte dalla considerazione fenomenologica della traccia quando noi usiamo questa parola e cosa intendiamo? Qual è il significato che di solito nella vita di tutti i giorni noi attribuiamo alla parola traccia? Il significato di per sé è evidente ognuno di noi sa che una traccia per esempio è l'impronta che lasciamo sulla neve fresca ed è proprio questo l'esempio che fa Strauss immaginiamo una distesa un campo innevato e delle tracce che spiccano su questa distesa bianca. Che cosa sono le tracce? In che modo diciamo così un approccio scientifico descriverebbe le tracce? Le descriverebbe come delle cavità che si trovano disposte una accanto all'altra e che si danno contemporaneamente nel presente ma evidentemente il significato della traccia non può limitarsi a questa descrizione non possiamo limitarci ad esaurire a ridurre il significato della traccia a delle cavità dovute al fatto che in quel punto la neve ha subito una pressione cavità che si ritrovano che si trovano a una certa distanza l'una all'altra che hanno determinate dimensioni che hanno una determinata profondità che hanno un inizio e hanno un termine e che appunto sono poste nello spazio l'una accanto all'altra. La traccia è qualche cosa di più ad un'analisi fenomenologica la traccia dice Strauss è un resto è un qualcosa di frammentario è un qualcosa che richiama un evento passato cioè l'evento che l'ha prodotta come resto appunto la traccia non è in grado di rendere presente l'intero evento che l'ha prodotta ma chi è in grado di fare ciò è il soggetto è il singolo individuo che guardando la traccia diciamo così risale all'evento che l'ha prodotta in altre parole una traccia per essere tale ha bisogno di un lettore ha bisogno di un interprete e l'interprete è il soggetto umano che appunto guardando la traccia dice qui la sera prima è passato un uomo dunque se la teoria delle tracce mnestiche pretende che la traccia mnestica appunto questa sorta di impronta che le impressioni attuali lasciano nel nostro cervello se essa pretende che questa traccia questa impronta si è in grado di riattivarsi da sé cioè si è in grado di suscitare alla coscienza l'immagine intera dell'evento che l'ha prodotta evidentemente stiamo chiamando traccia qualche cosa che non è in realtà una traccia perché perché come abbiamo visto poco fa il significato della traccia richiede necessariamente un interprete e l'interprete non è la traccia in altre parole affinché una traccia sia una traccia c'è bisogno di un lettore che non coincide con la traccia nella teoria delle tracce mnestiche invece la traccia legge se stessa è come se la traccia cioè un resto qualche cosa di frammentario coincidesse con l'interprete di se stessa ed è come se questa traccia da frammentaria che è potesse rievocare l'intero evento che l'ha prodotta questo è chiaramente assurdo se consideriamo inoltre che questa concezione questa ipotesi delle tracce mnestiche viene a sostenere che una causa produce un effetto dunque un'impressione attuale io che sto guardando questo fiore in questo preciso momento ecco questa impressione lascerebbe nella mia materia cerebrale una traccia e il giorno successivo o tra una settimana quando volete voi la traccia potrebbe riattivarsi e potrebbe far sì che io ricordi appunto il fiore che ho visto in questo momento ebbene se noi diciamo così stiamo dicendo che uno stato di coscienza una impressione attuale cioè il fatto che io ora vedo questo fiore produce un effetto che è appunto la traccia amnestica e che la traccia amnestica a sua volta può riprodurre quel medesimo stato di coscienza cioè l'immagine del fiore cioè sto dicendo in altri termini che una causa produce un effetto e che poi l'effetto cioè la traccia amnestica sarebbe in grado di riprodurre la causa che l'ha prodotto ecco questa è un'ulteriore contraddizione che Strauss rileva nella teoria delle tracce amnestiche ma per tornare all'esempio delle tracce lasciate nella neve l'analisi fenomenologica della traccia rivela che questa ha una struttura storico-temporale dice Strauss cioè la traccia richiama nel presente un evento passato che la traccia sia un evento storico-temporale significa che nel rievocare l'evento che l'ha prodotta io non penso a un passo accanto all'altro che si dà nel presente come un insieme compiuto come un tutto ormai concluso ma penso a un passo dopo l'altro cioè immagino l'uomo che cammina in una certa direzione ma di cui io non posso prevedere in anticipo la meta quindi penso a un evento incompiuto che si sta compiendo che appartiene diciamo così alla sfera del possibile non del necessario non del già compiuto e che appunto ha una struttura temporale proprio nel senso che io posso dire di questo uomo che sta camminando in una certa direzione che mette un passo dopo l'altro ecco appunto il tempo che si svolge mentre la traccia lasciata dal passaggio di questo uomo o meglio le tracce lasciate dal passaggio di questo uomo quando l'evento è ormai concluso l'indomani mattina che io mi affaccio alla finestra e vedo appunto questa serie di tracce si danno queste tracce non tanto come un passo dopo l'altro ma come una cavità accanto all'altra in questo senso la traccia come resto di un evento passato la traccia come qualche cosa di compiuto come qualche cosa che si dà nella contemporaneità del presente ha piuttosto una struttura spaziale che non una struttura temporale ma la traccia come tale agli occhi di un interprete ha invece oltre a quella struttura come dire spaziale che si dà nel presente nel momento in cui io vedo la serie delle impronte lasciate sulla neve dal passaggio dell'uomo ecco quella stessa traccia si dà a me che osservo anche come una struttura temporale perché è un presente che si riferisce al passato che parla del passato che rievoca nella memoria un evento passato il quale evento passato io me lo immagino appunto come il passaggio di un uomo come il cammino di un uomo l'atto il movimento di un uomo che cammina nella neve ma di cui io ancora non conosco la meta lo saprò soltanto l'indomani mattina per così dire cioè è soltanto l'evento compiuto che io osservo nella contemporaneità del presente a dirmi appunto quale sia la direzione quale sia il fine quale sia il punto verso il quale l'uomo si dirigeva nel momento in cui io lo immagino nell'atto di camminare dunque ecco la struttura temporale della traccia la traccia è sempre un frammento un frammento un resto che tuttavia agli occhi dell'interprete rievoca il passato è un presente che si dà al tempo stesso come passato che ha nel presente una struttura spaziale una cavità una traccia accanto all'altra a cui tuttavia appartiene anche una struttura storico-temporale cioè un passo dopo l'altro un passo